In Italia continua a salire la curva dei contagi da Covid-19, così come i ricoverati in terapia intensiva. A Roma si conferma una prevalenza dei casi di rientro dalle vacanze e continuano i link dalla Sardegna. Al momento, fortunatamente all'ospedale Grassi di Ostia, la situazione è sotto controllo. Vorremmo riuscire a capire in questa fase come l'ospedale Grassi sta reagendo e qual è la situazione? È vero che siamo in una fase diversa dal punto di vista generale, ma in quanto pronto soccorso noi dobbiamo sempre comunque mantenere le stesse garanzie di sicurezza, come se fossimo in piena fase pandemica, separando attentamente i percorsi tra i sospetti Covid-19 e quelli almeno apparentemente non sospetti. Spieghiamo cosa devono fare le persone quando vengono al Grassi. Ormai ci sono dei percorsi precisi che le persone devono seguire. Chi arriva a piedi con i propri mezzi deve assolutamente passare attraverso la tenda del pre-triage che abbiamo qui davanti, dove verrà fatto un questionario, dove verrà presa la temperatura per poter capire se il paziente può accedere alla zona, chiamiamola così, Covid-free, cioè senza Covid apparentemente, oppure deve essere assolutamente portato nella zona invece riservata ai sospetti. Se effettivamente abbiamo un caso confermato, la trasferiamo nei reparti degli ospedali che sono proprio Covid. Possiamo chiederle quanti casi ci sono stati o ci sono? Qualche caso lo abbiamo avuto, soprattutto casi di contatti, d'altronde lo sappiamo tutti, di contatti con la Sardegna essenzialmente, ma non solo. Abbiamo avuto all'inizio anche i pazienti del Bangladesh, però grazie al coscienzioso utilizzo del pronto soccorso da parte dei cittadini che stanno facendo in questo momento, ci siamo potuti permettere di fare bene le diagnosi, di separare bene i percorsi, di non far infettare nessuno, né tra gli operatori né tra i pazienti presenti. Così è sotto controllo. È fondamentale però, proprio per mantenere la situazione sotto controllo, non recarsi al pronto soccorso se si avvertono i primi sintomi del coronavirus. In quel caso è necessario allertare il proprio medico di base o l'ASL Roma 3.